Il Rotary a servizio dell'umanità. Con questo motto si è svolto alla caserma della Guardia di Finanza di Caltanissetta un corso rivolto sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso del defibrillatore automatico esterno. Menti in tutto le fiamme gialle che hanno seguito il corso scatturito a seguito di un protocollo di intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Distretto 2110 del Rotary International. L'idea nasce dal governatore del Distretto 2110, Nunzio Sibilia, il quale in programmazione del suo anno ha deciso di effettuare questo corso. Ha stipulato una convenzione col Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale Regionale e attraverso questa convenzione si stanno svolgendo in tutta la Sicilia, il nostro è un distretto binazionale Sicilia e Malta, si stanno svolgendo in tutta la Sicilia dei corsi di formazione di primo soccorso e sull'utilizzo del defibrillatore. E inoltre ogni Rotary Club della Sicilia donerà un defibrillatore da portare nelle unità, sceglieranno ovviamente il Comando della Guardia di Finanza, di quale unità dotare di questo defibrillatore. Questa è un'iniziativa che nell'ambito delle nostre iniziative solite, il nostro è un club service, e tra tutte le iniziative, sia a livello internazionale, come la Polio Plus per esempio, e tutte le iniziative a livello nazionale, cerchiamo sempre appunto di dare un servizio alla collettività. Sicuramente è una non lodevole iniziativa, io ci tengo a ringraziare i rappresentanti del Rotary che hanno offerto la loro disponibilità non solo in termini di professionalità, perché qui stiamo attendendo e arriveranno a breve dei medici qualificati che faranno un corso di primo soccorso ad alcuni dei nostri militari che lavorano qui al Comando Provinciale di Caltanisetta. E inoltre, ancora di più, li vorrei ringraziare per questo importantissimo dono, il defibrillatore, che è uno strumento necessario e utilissimo che potrebbe salvare delle vite umane se utilizzato con accortezza e tempestivamente. A spiegare le manovre da eseguire in caso di un pronto intervento e l'importanza oltre l'uso del defibrillatore, i medici rotariani Cinzia Leonardi e Franco Doness.